Abbiamo dei donatori di sangue che erano già positivi a dicembre, abbiamo analizzato a Milano dei campioni di sangue raccolti in fase anticipata. Quindi un virus che è cresciuto e poi tutto ad un botto ha fatto vedere quella piccola percentuale di casi gravi, perché complessivamente solo un 15% di casi determina una malattia clinica evidente, un 5% le forme più pesanti e solo un 1% l'arrivo in terapia intensiva per quello che è l'effetto più triste e pesante sui polmoni, che è un effetto tra l'altro paradosso di un eccesso di risposta infiammatoria dell'organismo che determina quella polmonite interstiziale che tutti ormai abbiamo sentito essere la parte più pericolosa insieme poi ai successivi trombi che poi portano al decesso le tante persone che abbiamo visto, anche mille al giorno siamo arrivati, però non sappiamo bene quali sono gli effetti anche a lungo termine, avete sentito long covid, avete sentito e visto che ci sono manifestazioni a livello cardiaco ed altri organi, quindi è una malattia che ancora non conosciamo. Come virologi siamo stati impallinati perché c'era la speranza che noi dessimo risposte immediate, sicure, positive, magari nell'intervallo che passava tra il Tg di mezzogiorno e della sera, invece di fatto si è scoperto come la ricerca va avanti, va avanti per tentativi, errori, discussioni fra ricercatori che sono il sale di quello che poi è la conferma delle informazioni che necessitano del tempo, delle prove, delle controprove e anche un esperimento o un'ipotesi andata male ci serve per arrivare a quelle che sono poi conoscenze che comunque in poco tempo abbiamo raggiunto. La vaccinazione è stato un elemento importantissimo, grazie alla spinta che c'è stata abbiamo in poco tempo un vaccino ed era insperato questo, un vaccino che non è, o vaccini più di uno, che non sono stati fatti in fretta e furia, ma comunque studiati quanto altri vaccini e farmaci del passato in termini numerici ed è chiaro però che in questo momento in cui si stanno utilizzando su grande scala fanno vedere degli eventi avversi, però come vi accennavo sempre prima mentre il farmaco lo accettiamo con degli eventi avversi andate a leggere il bugiardino dell'aspirina e vedrete che ogni volta che si prende una pastiglia di aspirina ci buca lo stomaco poi il problema si risolve, però sappiamo di tanti effetti collaterali di questo però accettiamo questo rischio oppure la terapia, la pillola anticoncezionale ha un rischio per esempio 300 volte superiore a quello della vaccinazione di avere delle trombosi però viene accettata la vaccinazione è più difficile da accettarsi perché è un qualcosa che facciamo stando bene quindi non vorremmo star male per colpa del vaccino non sappiamo se il vaccino ci servirà perché non è che vedremo un bel giorno il virus del morbillo o dell'epatite o del coronavirus e potremmo dire orgogliosamente mi sono vaccinato o un ombrello protettivo e quindi questo è un elemento non facile perché l'efficacia dei vaccini la vediamo noi dal punto di vista generale statistico in questo momento grazie a una vaccinazione che ha raggiunto già quasi con una dose il 50% degli italiani abbiamo ottenuto meno 80% di ricoveri e abbiamo almeno stimato di aver salvato la vita 30.000 persone quindi davvero i risultati ci sono effetti avversi ci sono potremo immaginare effetti a lungo termine ma sono tutti da immaginare e del tutto teorici però che vengono in qualche modo messi in evidenza da chi è dubbioso da chi lancia questi aspetti negativi a fronte di questa invece opportunità perché davvero questo virus come vi dicevo questo iceberg determinato dal virus l'abbiamo fatto sciogliere la prima volta col primo lockdown duro puro quello più pesante delle disposizioni del primo giro poi l'abbiamo lasciato ricrescere nell'estate scorsa e lo abbiamo rivisto pesantemente nei suoi effetti più importanti siamo riusciti a riscioglierlo fine anno ma anche qui poi è stato necessario un'ulteriore stretta perché siamo arrivati alla terza ondata ora siamo in una fase molto limitata e temiamo con le varianti ormai è inutile, sappiamo tutto delta, alfa, beta la variante delta quella cosiddetta indiana più contagiose, più diffusive e quindi si teme che questo virus possa ricrescere l'abbiete sentito di questi giorni l'effetto in Inghilterra nonostante ampia vaccinazione però come si vede in Inghilterra grazie ai vaccini non avremo una proporzionalità di eventi avversi negativi come quelli che abbiamo visto nelle prime ondate perché il vaccino come vi dicevo ci ha dato conferme di efficacia di funzionamento e sostanzialmente di sicurezza quindi dovremo considerare questo e quindi non dobbiamo avere un approccio come la prima volta ci sta la prima volta questo virus ci ha fregato di liberi tutti ma di progressività nell'approccio e nel ritorno alla normalità perché come questo primo nostro momento come Ampas è un primo momento di tanti altri contesti però partendo da questo presupposto in questo momento ogni contatto interumano è a rischio ha una bassissima probabilità di determinare infezione quindi gestiamo questa frequenza e volevo spessare una lancia a tutte le disposizioni al grosso lavoro che le istituzioni locali la polizia locale la polizia le carabinieri hanno dovuto adottare a fronte di indicazioni che potevano sembrare anzi c'è chi ha paventato di andare contro la Costituzione rispetto alla lesione della libertà ma sono state decisioni utili per la comunità perché davvero poi possono essere anche prese in giro singolarmente il fatto di andare in una cittadina di provincia e avere il coprifuoco alle 23 non c'era credo bisogno di dirlo perché alle 23 in un paesino di mille abitanti si esce in due a prescindere dall'obbligo però disposizioni di ordine generale che hanno determinato come dire la riduzione dei contatti questo era stata la finalità perché purtroppo non c'è un manuale di gestione quindi è vero il virus si diffonde a tavola a mezzogiorno e alla sera si è deciso una mediazione per rendere come dire meno difficile la convivenza civile in un momento d'emergenza e si è accettato un rischio dicendo mangiate pure a mezzogiorno non alla sera anche perché la sera vuol dire andare più in giro stare più tempo assieme perché mangiare insieme è una cosa bella che non è solo il cibo che deve essere di qualità ma non è solo questo è anche ridere scherzare stare a lungo insieme voi avete sentito ormai è chiaro 15 minuti di vicinanza diretta perché la parte principale della trasmissione avviene proprio per contatto purtroppo interumano poco attraverso l'ambiente all'inizio avevamo tanta paura pulivamo anche le ambulanze in modo veramente fine esagerando rovinando anche della strumentazione però comunque sia anche un certo rischio indiretto di questi droplets famosi che rimangono sul tavolo e poi li tocchiamo e c'è quindi davvero il messaggio che volevo darmi ma non volevo prolungare tanto i miei pippettoni perché il rischio è poi come anche quando nelle vesti di Ampas racconto le cose dire sostanzialmente questo una patologia che ci ha fregato una patologia che però siamo riusciti a conoscere in quota parte in poco tempo che ha permesso la produzione di vaccini e questo impegno economico e anche scientifico stringente ci darà l'opportunità di creare altri vaccini per altre patologie perché la tecnica dell'RNA messaggero è una tecnica che già era in pancia la ricerca ma i finanziamenti anche di un Trump che come esempio non è stato per niente un buon esempio che però ha dato molti soldi e non a caso nella lotta con la vaccinazione sono arrivati i primi poi ora abbiamo questi vaccini ne abbiamo tipi diversi abbiamo fatto una vaccinazione di massa ora credo siamo nella fase 2 anche l'emozione per questa perdita di questa povera ragazza Carlotta caduta in questa guerra che è stata come presumibilmente non sappiamo ancora con certezza questo però è un elemento che ora farà deviare l'organizzazione della vaccinazione per una vaccinazione più sistematica più personalizzata scegliendo la tipologia del vaccino sulla base delle caratteristiche delle persone e io spero che questa comunicazione che un po' è stata anche disturbata disturbante vi dicevo l'infodemia che ha in qualche modo sempre come dire evidenziato questo eccesso di emozione di interesse di polarizzazione perché anche noi virologi siamo messi in croce ma anche perché spesso siamo andati come citava in un confronto in moduli in format televisivi fatti peraltro per la politica per mettere a confronto opinioni politiche diverse utili in questo momento perché questi format sono la novità rispetto alle piazze per far sì che i cittadini sentano i vari partiti quali sono le opinioni è chiaro che se ci mettono dei ricercatori ognuno come dicevo prima ha proprio opinioni oppure mette in luce alcuni aspetti e quindi ci hanno divisi in catastrofisti diciamo pessimisti in alcuni aperturisti io sono diventato un po' democristiano perché ho sempre cercato per quanto possibile dalla mia esperienza di comunicazione su un segmento come forse avete visto già nel passato sull'influenza le infezioni respiratorie di cercare di dosare ciò che si viene a dire perché quando si è di fronte a una telecamera si ha un'enorme responsabilità non è facile far passare messaggi in pochi secondi in pochi minuti perché davvero come sto facendo anche adesso bisogna argomentare in modo più ampio e articolato le cose e già quello che sto facendo adesso è una semplificazione che forse vi lascerà dei dubbi ma che credo possa darvi quest'idea un virus che abbiamo conosciuto che abbiamo ancora da conoscere nei suoi effetti su lunga scadenza ma sono tre cose che dobbiamo fare una la vaccinazione importante un mantenimento del nuovo galateo ancora per un po' di tempo smollandolo un po' via via io ho fatto ridere in una trasmissione radiofonica ho detto che mi sarebbe piaciuto che venisse fuori la moda della tintarella con la mascherina mi hanno sui social massacrato ma lo spirito era quello di ribadire è vero le mode sono inutili però una moda così a me non dispiaceva perché voleva dire un'attenzione maggiore a di tutti è chiaro che anch'io quando andrò al mare qualche giorno quest'estate userò la mascherina ma come gli occhiali da sole cioè nei momenti come questo dove siamo affollati e dove appunto mi sono tolto la mascherina perché siamo distanti ma tutti voi avete la mascherina questo è l'approccio del futuro un impegno delle istituzioni quello di organizzare al meglio la vaccinazione all'inizio c'erano pochi vaccini ora ce ne sono di più e quindi potrà essere offerti offerti in modo come dicevo personalizzato con una grande attenzione per soprattutto proteggere i fragili ma è stato un bene vaccinare il più possibile all'inizio la gran quota di persone che lo desideravano e un'altra cosa sarà il tracciamento la responsabilità in chi purtroppo è ammalato e si ammalerà perché abbiamo ancora almeno mezzo milione di persone in questo momento in Italia positive anche qui in Sicilia ci sono alcune cittadine che sono state considerate rosse diciamo per questa esigenza di contenimento e eseguire tamponi tracciare e riuscire io credo a governare questa malattia con una convivenza che non finirà qui è una convivenza come dicevo più civile grazie alla presenza del vaccino ma che probabilmente ancora tutto da dire accettate l'incertezza ecco l'elemento che dobbiamo vedere come cittadini è che la natura noi la inseguiamo e bisogna governare l'incertezza credo il sindaco il prefetto ne abbia la contezza nella suo mestiere di una difficoltà perché chi è da questa parte non ha risposte complessive e deve fare delle scelte e delle scelte che poi magari a posteriori non erano le migliori ma nell'emergenza e lo sappiamo tutti lo sapete tutti voi quando siamo su un'ambulanza bisogna decidere in mezzo all'emozione all'incertezza alla non conoscenza delle informazioni e questo è quello che dobbiamo fare noi adesso e ammettere questo e quindi avere questa pazienza e attenzione da parte di tutti in questo modo vinceremo questa guerra bisognerà rivaccinarsi molto probabilmente dovremo ancora sentire parlare di questo virus perché davvero anche l'AIDS oggi si ammaleranno altre dieci persone è incredibile noi potremmo eliminare l'HIV non c'è ancora un vaccino e potrebbe essere utile forse come dicevo questa tecnologia per il covid servirà anche a questo però non se ne parla più e si è persa la paura dell'HIV vuoi perché ci sono farmaci e possibilità di assistenza a questa malattia però non dobbiamo fare come l'AIDS mantenere attenzione perché le malattie infettive ci sono ci saranno e ci terranno purtroppo compagnia ma sarà il nostro comportamento delle istituzioni a far sì che questa convivenza sia più civile grazie intanto ci sono delle domande qualcuno vuole fare delle domande dei ragazzi dei volontari non è un problema sì prego ma senza microfono ma io l'ho vista no in realtà è una domanda un po' forse uno scema però tanti di noi hanno fatto il vaccino AstraZeneca due dosi però poi dicono il vaccino i vaccini più potenti tipo burioni oggi ieri ho fatto un tweet sappiamo che i vaccini più potenti quindi Pfizer e Moderna danno questo questo e questo quindi noi abbiamo fatto un vaccino che ci protegge in teoria o è un vaccino reale perché la sensazione che abbiamo è di aver fatto un vaccino no no allora è vero è una magnifica domanda perché allora tutti i vaccini ad oggi disponibili hanno un'efficacia per evitare la malattia grave e si vede anche in Inghilterra come è stato usato molto AstraZeneca AstraZeneca ha avuto una narrazione negativa molto difficile che ha focalizzato nel tempo alcune limitazioni agli studi alle modalità con cui si è arrivati alla registrazione ma davvero non è un vaccino di serie B abbiamo visto purtroppo che in alcune situazioni nel soggetto più giovane nell'immediatezza della prima dose può dare con una probabilità bassissima 1 a 100.000 degli eventi non piacevoli le trombosi superati questi 15 giorni direi chi l'ha fatto è sereno e può stare tranquillo e chi ha fatto una singola dose potrebbe farla seconda però sempre per minimizzare al limite i rischi si è detto usiamo un altro tipo di vaccino e si userà Pfizer per chi è rimasto a mezzo però davvero questa protezione c'è io credo che nel prossimo futuro si arriverà a usare vaccini a RNA anche dal punto di vista economico di disponibilità di scelta commerciale se si può dire a livello europeo però io dico chi ha fatto AstraZeneca ha fatto bene a farlo perché in quel momento rischiava tantissimo e si è protetto in una fase dove ha dovuto usare un'arma che forse per motivi che non sono legati in modo stringente alla sua qualità non sarà più quello privilegiato nel futuro in realtà quando l'abbiamo fatto noi dicevano che andava bene al di sotto dei 50 allora questa ricerca è stata fatta comunque in tempi brevi all'inizio si era avuto un dubbio nell'utilizzarlo nell'anziano perché la casistica era stata ritenuta non ampia successivamente è stato ampliato il campione per fare la valutazione perché la registrazione di tutti i vaccini è fatta nella casistica in cui si fa riferimento e io dico non è stato facile comunicare si è comunicato male che si trattava di miglioramenti e di perfezionamenti rispetto all'utilizzo e purtroppo nell'immaginario c'è quello che lei dice ma tanti dicono un vaccino di serie B un vaccino pericoloso è un vaccino che potrebbe creare dei problemi in realtà vi dico efficacia notevole qualche defiance su questi aspetti minimale che oggi ha portato a dire minimizziamo i rischi e lo usiamo solo per chi ha il maggior vantaggio nell'esecuzione grazie a tutti